L'elaboratore e piccolo costruttore svizzero Rainspeed che ogni anno al Salone di Ginevra stupisce con qualche prototipo spettacolare, quest'anno rispolvere il concetto della macchina dalla carrozzeria trasformabile a seconda dell'uso. Questa iChange è una sportiva con tre posti. Quando c'è soltanto il guidatore, la macchina ha un tetto molto basso che favorisce l'aerodinamica. Quando invece c'è bisogno di trasportare due persone dietro, questo padiglione trasparente si solleva leggermente in modo da lasciare più spazio per le teste dei passeggeri posteriori. Era qualche anno che non si sentiva più parlare di auto trasformabili. Molti ricorderanno lo studio vario della Mercedes negli anni 90 e la stessa Rainspeed presentò nel 2002 una vettura che si allungava e si accorciava a piacimento. La guerra ai consumi ha imposto altre priorità, di cui a onor del vero la iChange tiene conto. Infatti è spinta da un motore elettrico da ben 130 kilowatt, cioè oltre 170 cavalli, alimentato da batterie agli ioni di litio. Il peso totale del veicolo è contenuto a poco più di 1000 chili. Garantendo prestazioni mozzafiato, fa 0-100 in circa 4 secondi e consumi di energia contenuti.